no ciao a tutti e benvenuti su questo nuovo video siamo qui oggi su video notti dimmi no, c'è il mouse un attimo, no, appaghi no, ok a posto aspetta ecco occhio sopra sopra nessuno quando vengo fuori fuori andato io voglio la scuola, ora! la scuola! lo puoi ancora fuori perfetto ho colpito da un braccio però no, mi ha quasi piccato diciamo che non hai una mira proprio decente a me mi ha quasi piccato aspetta ok, atter avanza per dirci viene vai di coppia avanza 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 eh beh lo so che sei innocente però vai di coppia che cazzo ci fanno ma aspetta vai 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 aspetta non vedo nessuno non vedo nessuno conto con in cucina qua poi ci sta l'aggherzi vittoria il 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 O ci ridiamo? Vabbè, io cado a destra, tu a sinistra, poi ci rivediamo un po'. Oii! Non vedo nessuno. Sento una presenza davanti. Non è un vandato, ragazzi. Eh. Sai che ci vuole un bel visore termico. Eh, ma un bel visore termico non capisci il cazzo. Cioè, vedi soltanto il calore. Controngo. Sembra una melza trappola. Non vedo nessuno, però boh, mi sembriamo troppo esposti. C'è un campo. Easy. Eccomi. Ok, aspetta. Quell'ante è andato a sinistra e ti dico. Ti camico e ti copio da qua. Non so se fanno i giro. Ok. 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 Ma fa il giro, mi sa. Andiamo a diritto. Contrano sempre indietro, eh. Vabbè. Ok. 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 ho i 2 cro... com'è? che cazzo? erano due questo è tipo far credere quando devi scappà ma si cade in acqua qua cioè non ti fa andare no infatti dobbiamo muoverci dobbiamo soltanto ammazza tutti perchè tutte le missioni secondarie le abbiamo fatte c'è questa porta qua che mi da molto fastidio vedo nessuno nessuno c'è il garage qua c'è il garage qua qua c'è qualcuno sicuro ho sentito qualcosa l'abbiamo ammazzato prima aspetta oi si questo è quello che abbiamo ammazzato appena entrati si 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 ok andiamo ditto qua vedete un attimo trappone no stanza rossa che l'abbiamo 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 oai oai dopo missione eh questa è bella si si vediamo un po' ma come c'è si grazie c'è di chi romadi